Ti porti, cazzo. Problemi di stetichezza? Ti preparo delle foglie di senna del giardino con un po' di cannabis. Grazie del pensiero, ma mi sono appena seduto. Non devi vergognarti, George. Sì, ma non ho problemi, non mi serve niente. Come dire, finché non si rompe, non aggiustarlo, vero? Ne sei una più del diavolo, eh? Ne lo diceva anche mia mamma. Comunque, devo chiederti una cosa. Allora, mi dai le cevi della tua macchina? Che cosa? Ti vediamo tutto qui, George. Il furgone non c'è. Sì, certo, non abbiamo ancora tolto la nostra roba, ma tieni, la mia macchina... Così ti voglio, George. Allora, non so molte cose sulla tua vita. Da dove vieni? Possiamo parlarne in un altro momento. Mi piaci. Katie aveva detto che sei simpatico, sì. Mi rischiano le orecchie, spero di non disturbare. Veramente, vorrei concentrarmi. Seth ha convocato il cerchio della verità. A te e Linda piacerà un sacco. Andiamo. Ok, ti aspetto. Tranquillo.